Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Questa roba che vedete qui davanti, più altra qui sotto che ho da mostrarvi Ci è arrivata tutta il giorno 30 marzo Quando? Quindi, quando vedete questo video ricordatevi che l'ho registrato il 30 marzo Praticamente un'ora o due ore dopo insomma Che mi è arrivato questo pacco, diversi pacchi in tutta questa roba E stavo aspettando un po' di giochi da tavolo Ma la cosa che mi fa ridere è che nella quinta domenica ludica Ho detto col fatto del coronavirus che i corrieri non consegnano più Stavamo aspettando tanti giochi che non ci sono più arrivati Perché ovviamente i corrieri, giustamente come tutti si devono salvaguardare Sono fermi e non consegnano, o meglio, consegnano soltanto generi di prima necessità Oggi, cioè vabbè oggi nel senso il 30, questo video qui è del 30 di marzo Ci sono arrivati la mattina due corrieri, uno sbotto di scatole E tutti i giochi che vedete qui davanti, più ce ne sono altri due qui sotto Però che vi faccio vedere Allora, partendo da destra, che sarebbe, vabbè, la vostra sinistra Vi faccio vedere un prototipo dell'ultimo gioco di Jacob Frixelius Star Scrappers Orbital In cui dovete gestire una stazione spaziale ed è un gioco a cura della Exi Studio Che io ringrazio di cuore perché è il primo gioco che mi hanno mandato I primi tre, ora vi faccio vedere anche gli altri Ed è appena iniziata la collaborazione con loro Quello che poi vi farò vedere qui davanti Non vi faccio unboxing, non vi faccio recensioni Questo video qui è soltanto per farvi vedere la roba che mi è arrivata E che attendiamo veramente da tanto tempo Questo è un gioco orbitale di carte Ovviamente ci sono anche di Meeple Dove dobbiamo andare a costruire e gestire e far sopravvivere una stazione orbitale Quindi un gioco spaziale Io lo sapete dalla A alla Z Lo voglio perché è l'ambientazione mia preferita Quindi non potevo desiderare altro E la versione questa qui non è la versione finale Diciamo all'80% Comunque è un prototipo E mi hanno anche mandato il loro gioco Slyville Che per la maggior parte loro sono tutti quanti comunque giochi di carte Difficilmente fanno giochi di miniature Ma hanno mandato anche Slyville E poi un altro gioco che gli avevo chiesto E che mi interessava da morire Sempre della serie di Starscrappers La stessa ambientazione di Orbital Ma hanno mandato anche Cave-In E questi sono i loro tre giochi Che di cui farò una recensione Anche gameplay ovviamente con mia moglie Che vi porterò nel canale quanto prima Qua al centro c'è il gioco che attendevo assolutamente più di tutti Veramente da morì Uno dei giochi più discussi Uno dei giochi più finanziati su Kickstarter E uno dei giochi più attesi Dungeonology della Ludus Magnus Che sono le stesse per farvi capire di Novetas E giochi del genere Versione edizione italiana Che uscirà o il prossimo mese O comunque al prossimo play A cura della Pendragon Che io ringrazio davvero di cuore Per avermi fornito questa copia per la recensione Grazie Roberto È sempre un onore collaborare con voi Un piacere E davvero ragazzi grazie Ogni volta che ci avete una novità Siete sempre pronti a mandarla Senza se e senza ma Ed è un gioco di miniature Ambientato a Rocca Civetta Quindi l'ambientazione Anche i nomi di personaggi I nomi degli allievi I nomi dell'ambientazione Rimandano appunto All'ambientazione fantasy Molto nostrana Appunto molto italiana In cui siamo all'interno di questa scuola Di questa università Che ricorda un pochino Hogwarts Però che va a creare avventurieri Infatti è bello che sotto questa Rocca Civetta Sotto questa scuola C'è un dungeon Vero e proprio Dove gli studenti Vanno Non soltanto per studiare Le razze dei mostri Magari portati da Alunni più anziani Chi deve fare magari Dare un esame Chi sta seguendo un corso Anche da professore E non vanno soltanto in queste Catacombe del dungeon Per etichettare E dividere E catalogare I mostri che ci sono Ma anche veramente Per dar prova Di essere diventato un avventuriero E di aver superato la prova E l'esame Soprattutto al lato pratico E come ambientazione Ricorda un po' Sia Harry Potter Questa Rocca Civetta Questa scuola e tutto Però ricorda anche molto Da vicino Fable Molto Anzi forse ricorda più Fable Nel tipo di miniature Che non Harry Potter Ed è un Dungeon Crawler Tra molte virgolette E uno dei giochi Più attesi di quest'anno Versione italiana E io non vedo l'ora di provarlo Questi due giochi Che vedete qui Della Mighty Boards Sono forse I due giochi Di quest'editore Della Mighty Boards Più Di cui si è fatto Di cui si è parlato maggiormente E anche questi più attesi Perché si parla di Vengeance Un gioco Una scatola ragazzi Disumana Pesantissima C'è il piombo dentro C'è il ferro per davvero Ottanta miniature E questo è un gioco Che si ispira Secondo me A due titoli in particolare Un videogioco Che tra l'altro Nei miei preferiti E un film bellissimo Il videogioco è Hotline Miami Per farvi un esempio Mentre invece Il film è Old Boy Vi ricordate quello di anni fa Quel tizio lasciato in prigionia Perché la trama del gioco Sono mappe ovviamente Tile da comporre E la trama del gioco È che c'è una banda O un'associazione Comunque malavitosa Che ci ha fatto un torto E noi dobbiamo entrare E noi dobbiamo entrare Dentro questo Il loro palazzo Il loro covo Il loro club Tutto quello che volete Dobbiamo entrare all'interno Con il nostro personaggio E fare man bassa Ammazzarli tutti Fategliela pagare Per quello che vi hanno fatto E la cosa bella Che nel regolamento Di questo gioco Si può giocare Da 1 a 4 Ognuno ha il proprio personaggio Cioè pieno di miniature Ma voi avete un personaggio E in più ci sono anche I personaggi Di altri giocatori Che sono lì Anche loro A loro volta Per vendicarsi Ma voi dovete Ammazzare più gente Rispetto al vostro giocatore Avversario e rivale Perché non vi rubi La vostra Meritata vendetta Quindi Vengeance È il titolo del gioco E non vedrò di provarlo Grossissimo Immenso Roba da paura E ovviamente ringrazio La Mighty Boards Per avermi affetto Questo gioco E quest'altro Quella vi vado a descrivere Grazie di cuore ragazzi È la prima volta Che collaboro con voi Ed è un piacere Immenso Un altro gioco Qui accanto Che l'aveva addocchiato Mia moglie E l'ho richiesto Perché anche a me Mi piacciono moltissimo Quest'ambientazione Post Human Saga Ed è un gioco Che mi ricorda Forse molto da vicino Anche Dead of Winter Perché L'idea di base Siete un gruppo Di scavenger Siete un gruppo Di sopravvissuti All'apocalisse Post apocalittico Appunto come genere Di gioco E avete la vostra base Che tra l'altro C'è fisica Veramente bellino L'elemento scenografico Da mettere al centro Della mappa E dovete uscire Dalla vostra base Per andare a scavengiare E affrontare il mondo Fuori dal vostro accampamento Quindi ricorda anche un po' The Walking Dead Però forse più Di The Walking Dead Perché qui c'è zombie E cose strane Mi ricorda molto più da vicino Il secondo film di Mad Max Ovviamente quello vecchio Con Mel Gibson Mi lo ricorda molto da vicino Perché Il Guerrero della Strada Vi ricordate che nel film C'era lui che arriva In questa comunità E questa comunità Che oltre ad andare All'esterno Per prendere risorse Si barricano anche all'interno Da riders E altre comunque forze Che vorrebbero andargli A rubare Quello che faticosamente Hanno accumulato Ed è bello Come tipo di gioco Perché c'è questa base centrale Ci sono delle miniature Che sono stupende Non ce n'è tante Ci sono soltanto le miniature Degli avventurieri A differenza di Vengeance Che c'è le miniature Di qualsiasi cosa Però fatte veramente Molto bene Caratterizzate Ed è bellino Che come ti sposti fuori Dalla base Devi aggiungere tessere Per quello che vai a scoprire Perché te Non lo sai Come il mondo là fuori Quindi ogni tessera Magari potrebbe essere Uno spostamento Di chilometri e chilometri Quindi non sai Come il mondo là fuori Ed è la prima esplorazione Ed è bellissimo Ma ragazzi Le miniature più belle Che ho visto finora Vengeance ce n'ha tante Di qualità medio alta Sono belle Ce n'ha tantissime Questo non ce n'ha tante Perché ce ne dovrebbe avere C'ha 4 studenti Quindi 4 miniature di studenti Un boss E c'ha 45 matricole Che sono i segnalini Praticamente Degli studenti piccolini Che vi dovete fare Alla squadra di studenti Che vi segue Ma le miniature Che sono dentro Dungeonology Ragazzi C'è da aver paura Sono fatte bene Ed tagliate da paura Non vi mostro niente Per ora Perché è un video Soltanto per farvi vedere Che cosa mi è arrivato Oggi Vi ricordo in data 30 marzo E poi di tutti i prodotti Che vedete qui Vi farò proprio Un video a parte Con un cosa ne penso Insomma a parte Ragazzi Vi ricordo Che tutti i giochi Che vedete Più altri Giochi da tavolo O giochi di ruolo Se li volete ordinare Primo link in descrizione E link in sovrimpressione Vedete la nota Andate su Board Game Discount Che oltre ad avere I prezzi più competitivi Sul mercato Meglio di loro Non li trovate assolutamente Quindi andate a darci Veramente un occhio Tanto anche per farvi Soltanto un'idea Di titoli che hanno Catalogo sempre In aggiornamento E i giochi Li potete pagare Anche a rate Quindi andate a darci un occhio Ricordo Primo link in descrizione Di Board Game Discount Più tutti i nostri social A seguire Io ringrazio Tutti gli editori Che oggi Mi hanno fatto arrivare Uno sbotto di roba a casa E ragazzi Se questo canale Va avanti È merito a voi Quindi grazie Veramente di cuore È un onore Collaborare con voi tutti Veramente onoratissimo Ciao ragazzi Alla prossima